Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la squadra, la maglia di una squadra che non è andata ai mondiali in Qatar. Questa è la prima maglia dell'Algeria in versione player, la maglia indossata dai calciatori. Ispirata alle maglie dei mondiali del 1962 e del 1982, la prima maglia Agdas Algeria 2022 è prevalentemente bianca, abbinata a tre strisce verdi sfumate sul lato sinistro. Questa caratteristica della maglia da trasferta Adidas Algeria è direttamente ispirata alla maglia della Coppa del Mondo del 1982, che presentava un dettaglio simile. Pantaloncini e calzetoni bianchi completano il kit. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. La maglia secondo me è molto bella. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Mi piace molto questo motivo verde e la rifinitura in oro. Qui in alto vedete il costo che per una versione player con dei tempi di spedizione così veloci è veramente bassissimo. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Sul sito troverete anche degli sconti progressivi in base alle quantità. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Spero nel frattempo che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player. Allora... 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 E allora... Allora...